Dunque vediamo, 9 orizzontali, stanno più in basso delle scarpe, i prezzi, 23 verticale, perché? Eh beh, perché sono i più bassi, 4 trasversale, come mai? Eh beh, per una liquidazione totale, 4 come vi pare? Dove? Da Shoe Service Center. Shoe Service Center rinnova i locali e dal 16 gennaio fino al 26 petraio le calzature più prestigiose ed attuali costeranno meno di una passeggiata. Visitateci! Visitateci!